Ciao, sono Riccardo Marini, ideatore e fondatore di Total Training, società che si occupa di coaching sportivo e di organizzazione di eventi sportivi, specialmente di corse in natura, corse in montagna, il cosiddetto trail running. Oggi in questo video ti vorrei parlare un po' della mia esperienza. Io sono ormai 25 anni che mi occupo di sport, dall'ambiente universitario agli sport professionistici fino ad arrivare adesso proprio a una società strutturata nell'ambito del coaching e nell'ambito del tutoraggio, del supporto nella preparazione di sportivi, sport di endurance, quindi di corsa principalmente. Allora, come dicevo, 25 anni di esperienza ne ho visto un po' di tutti i colori, sia nell'ambito di strumenti, sia nell'ambito di metodi, sia nell'ambito di, diciamo così, rapporto risultati e approcci e materiali anche. Quello che mi sta incuriosendo e vorrei porvi l'attenzione, che è molto molto strategico in questo ultimo periodo, negli ultimi due anni soprattutto, è quello che riguardano, quello che riguarda un po' lo stile chetogenico, che è molto diverso dal concetto di dieta chetogenica, che ovviamente va guidata e supportata da professionisti e da specialisti, ma invece lo stile chetogenico è semplicemente un approccio molto interessante, soprattutto nell'ambito sportivo, poiché permette di riattivare, direi, dei superpoteri, io li chiamo un po' dei superpoteri, del nostro corpo. Quindi stiamo parlando di uno strumento, di una tecnologia che riattiva quello che è poi il metabolismo primordiale del nostro corpo, stiamo parlando dei chetoni esogeni a fermentazione naturale. La tecnologia oggi ha permesso di far sì che questa tipologia di principio attivo, che sono semplicemente dei sali, il principio attivo è il beta di idrossibutirrato, permette bevendolo, quindi è anche una bevanda gustosa, di arrivare progressivamente e anche velocemente, ovviamente dipende dai soggetti, all'inchetosi. E ovviamente il nostro corpo in uno stato di chetosi ha la possibilità di sfruttare al meglio alcune potenzialità legate al metabolismo dei grassi, legate al controllo delle infiammazioni e legate anche e soprattutto al recupero. Quindi quello che su questo video vorrei incuriosire e anche magari se alcuni sportivi, soprattutto di sport e di endurance stanno vedendo questo video, è quello di provare questi drink perché inseriti all'interno di un contesto di stile di vita, di allenamento, di chiamiamola così alimentazione low carb, possono farvi notare e possono farvi consapevolizzare degli effetti o comunque delle situazioni molto molto interessanti come più energia, meno fame, meno sbalzi di chiamiamole così up and down di umore, di glicemia e anche soprattutto nel recupero è una cosa molto molto interessante. Ovviamente questo è un video di introduttivo o comunque sia per incuriosire, se volete approfondire seguitemi nei miei canali social di Total Training e a presto. Ciao!